In alcuni centri pugliesi si sta verificando un fenomeno che accomuna alcune aziende che hanno in affidamento il servizio di raccolta dei rifiuti. Tredunion il fatto che queste aziende che si aggiudicano appalti milionari finiscono per non pagare i dipendenti o pagano gli stipendi con estremo ritardo lasciando a secco anche per diversi mesi famiglie e lavoratori. La situazione nello specifico riguarda la Tradeco di Minervino, l'Avvenire di Putignano e la Lombardi Ecologia di Trigiano. Quello dei ritardi nei pagamenti degli stipendi dei dipendenti delle aziende addette all'igiene urbana sta diventando un'emergenza vera e propria, provocando inevitabili ricadute sulla qualità del servizio. A sollevare il problema è stata di recente la CGL. Secondo i dati raccolti dal sindacato, prendendo ad esempio in esame la Lombardi Ecologia di Trigiano che opera in numerosi comuni della provincia, l'azienda che, ricordiamo, è al centro dell'inchiesta sulla discarica Martucci di Conversano, il ritardo sul pagamento degli stipendi ha raggiunto livelli record e si conta sull'ordine di svariati mesi. Non ultime le proteste dei lavoratori, costretti più volte a chiedere l'intervento delle amministrazioni comunali. Alla Lombardi Ecologia va assegnata la maglia nera, poiché sempre secondo il sindacato, a Putignano non paga gli stipendi da oltre due mesi, mentre a San Michele si riscontrano ritardi di circa tre mesi. Ritardi insopportabili, secondo la CGL, che stanno mettendo in difficoltà migliaia di famiglie. Il tutto peggiorato dalla evasione contributiva connessa alla previdenza complementare. Anche in questo caso, osserva Paolo Ciriaci, segretario della CGL, la Lombardi si contraddistingue in negativo, con l'aggravante che oltre a non versare sul fondo previdenziale la quota a carico del datore di lavoro, trattiene anche quella a carico del lavoratore, che viene regolarmente sottratta dalla busta paga. Eppure queste aziende partecipano agli appalti pubblici e i loro conti e i bilanci sono sempre perfettamente regolari.